Addio alle strade senza nome della fascia costiera di Ponte Cagnano-Faiano. La Giunta Municipale ha infatti dato il via libera ufficiale all'intitolazione di 40 strade poste fra il Litorale e la Versana, da anni prive di una denominazione nonostante le numerose segnalazioni dei residenti. L'esecutivo ha acquisito il lavoro compiuto dalla Seconda Commissione Consiliare, competente in tema di toponomastica, che ha redatto il piano per dare finalmente un nome alle arterie non presenti nelle mappe. 40 strade in tutto suddivise in tre categorie di denominazione, luoghi della costiera amalfitana, sorrentine delle isole napoletane, nomi di laghi e personaggi celebri della storia.